Buon pomeriggio dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia, in regione dunque è scoppiato il giallo del mail dopo la scoperta che l'ex assessore Santoro ha avuto accesso alla posta personale del suo successore Pizzimenti il quale ha presentato una denuncia contro i gnoti. È in corso un'indagine interna per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sentiamo Antonio Di Bartolomeo. L'assessore regionale a infrastrutture e trasporti Graziano Pizzimenti ha presentato una denuncia contro i gnoti alla polizia postale per una violazione della sua posta elettronica avvenuta decina di giorni fa. Qualcuno si è introdotto sulla casella della posta elettronica assessore territorio che è quella che usiamo noi, noi intendo io e i miei collaboratori della segreteria per tutte le comunicazioni ufficiali all'interno del mio assessorato ma anche dal punto di vista delle comunicazioni esterne verso l'assessore. Appena me l'hanno detto non ci credevo, anzi mi sembrava una cosa talmente assurda e allucinante che mi sembrava poco vera. Per sua stessa ammissione l'autrice della violazione a suo dire accidentale è l'ex assessore all'infrastrutture e trasporti Mare Grazia Santoro a cui la regione aveva dato un iPad che non le era stato ritirato e a cui l'accesso della posta non era stato interrotto al termine del suo mandato. Di questo ci siamo accorti perché ho inoltratto una mail da questa casella non accorgendomi evidentemente e immediatamente ho disconnesso l'account e ho restituito il supporto. Quindi si tratta di una disattivazione non avvenuta della casella di posta che io consideravo assolutamente morta e assolutamente non più operativa. Non era evidente che questo account fosse ancora attivo. A dieci mesi dal cambio di guardia in giunta Santoro sostiene di non essersi accorta che sulla sua posta c'erano email dell'assessorato anche per come l'iPad raggruppa la posta elettronica. Un altro iPad appartenente a uno suo collaboratore aveva accesso all'email ma nulla si sa di eventuali ingressi da questo dispositivo. Al di là del dolo o meno che sarà eventualmente verificato dalle autorità preposte c'è di sicuro una falla nel sistema di sicurezza della società regionale in Siel. L'assessore competente Sebastiano Calleri ha detto che è in corso un'indagine interna per appurare i fatti e responsabilità. Da una verifica successiva a questo episodio si è scoperto, ha detto Calleri, che c'era una situazione analoga con dispositivi non disconnessi anche negli assessorati di cultura e funzione pubblica proprio il suo.